Nel territorio abbiamo due società che promuovono questo sport, la Sidi Fondaso e l'Orentiri in Dolomiti, che cerchiamo di portare questa attività nel territorio e ci avrebbe un piacere avere appunto che le famiglie capiscono veramente cos'è l'Orentiri, perché è uno sport bellissimo che si svolge nel territorio, all'aria aperta, si possono conoscere molte possibilità di conoscere amici e svolgere questa attività bellissima.